Buongiorno a tutti e bentrovati con l'informazione di Molise TV. Oggi è martedì 1 dicembre e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. In risalto quattro arresti per l'omicidio di Rita, preso il mandante dell'assalto e tre lavoratori della villa dove abitava la dottoressa. Sono quattro le persone arrestate dalla polizia keniana per l'omicidio di Rita Fossa Ceca, il medico 51enne di Trivento, ucciso durante una rapina in casa. Si tratta di tre lavoratori della villa dove la dottoressa alloggiava insieme ad altri italiani, ai suoi genitori e allo zio e la mente dell'assalto armato. Da definire invece il rientro della salma in Italia, ma è certo che i funerali saranno celebrati a Novara. Stasera affiaccolata a Trivento. Nel taglio alto violati i diritti della difesa, avvocati penalisti, in sciopero e poi politica. Forza Italia allo sbando. De Matteis sì al rilancio, ma c'è bisogno di rinnovamento. De Matteis eliminare le manie di protagonismo e fare spazio ai giovani. E poi scuola. Esulta la Sabatini per le nuove immissioni in Molise. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale. Le nuove assunzioni portano un valore aggiunto. Una ricchezza ai 569 docenti in più. E ancora sanità. Natale Amaro per 111 precari dell'ASREM. Entro fine anno i 111 operatori sanitari rimarranno a casa senza lavoro. Campobasso viaggiavano con eroina e cocaina. In auto presi due giovani e genitori in carcere. Siglata l'intesa per i figli dei detenuti. Nuovo accordo tra regioni e istituti. San Giuliano di Puglia, Cotugno agli studenti. Voi siete la speranza del futuro. Passiamo adesso allo sport. Serie D, Esposito e Sivilla. Due molisani trascinano Matelica e Fano. Ancora a serie D. Campobasso mastica Amaro. Prima battuta d'arresto per mister Favo. Coppa Italia. Termoli e Venafro si gioca il 9. Slittano anche le due semifinali. Mercato Campobasso 19,19 sul Delzingalo Morante piace al Baranello. E proseguiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online Futuro Molise. In risalto, Campobasso, De Mattei, sala di Girolamo, monito indiretto a Patricello, disponibile ad un discorso politico di carattere sociale, ma si faccia chiarezza sulle anomalie che trasmettono disordine politico in Forza Italia, nel centro-destra. Acem ultimatum alla regione Molise. Iniziative eclatanti. Se le imprese non riceveranno i pagamenti, saranno licenziati oltre mille operai nel mese di dicembre. Kenya. Tre persone sono state arrestate per l'omicidio della dottoressa molisana Rita Fossaceca. E andiamo adesso avanti con le notizie di Primo Piano Molise. In risalto, dottoressa molisana uccisa in Kenya, presi gli assassini, Rita Fossaceca, tradita dalle persone che lavoravano nella casa. Tra i quattro arrestati ci sono il cuoco, il giardiniere e l'addetto alla lavanderia. Funerali a Novare e sepoltura a Trevento, il messaggio prima di partire, oggi ultimo giorno di mare, divertimento e malinconia. Nel taglio alto lo sciopero delle toghe, egonia mediatica e braccialetto fantasma. Fino al 4 dicembre gli avvocati penalisti si astengono dalle udienze. E poi amministrative a Isernia, Iorio agli alleati. Chi pensa di correre da solo consegna alla città gli avversari senza lottare. Sanità precari a Asrem, la Will denuncia, regalo di Natale per 111 collaboratori. Per 65 il contratto è scaduto ieri. Campobasso è il carcere più a misura di famiglia, spazi ricreativi per i fili dei detenuti. La direttrice rosa la ginestra, quei bambini è come se fossero orfani. E poi la crisi idrica dopo il maltempo, acqua non potabile, rubinetti a secco anche a Larino. Ed è ancora emergenza in molti quartieri di Termoli. Sale la protesta. Proseguiamo adesso con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di Lentella. Trindina chiusa, una voragine si apre pure sulla strada alternativa. E adesso le notizie sportive. Campobasso trasportavano eroina e cocaina in manette due ventenni. Serie D, lupo guarda al mercato, dimassaggia la valigia a pronta. Top bomber, marolda in fiamma agnone e si isola al secondo posto tra i cannonieri. Continuiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online. Informa Molise. In risalto, terra d'arte, calendario di spettacoli in programma da martedì 1 dicembre a domenica 6 dicembre. E poi un'Italia sempre più a doppia velocità, allarmanti dati sulle differenze retributive tra nord e sud. Barbagallo e Boccardo della Will a Parigi si discute di clima e Molise ci si distrae. Scossa di terremoto nel Foggiano, avvertita anche in Molise. E poi graduatoria dei vincitori per l'assegnazione della borsa di studio Angelo De Bernardo per studenti e atleti. E ancora galleria di Belmonte, Frana, Macerone, Di Clemente, se si vuole, i fondi si trovano. E a Riccia parte il concorso Mi Illumino di Speranza col diretti Molise. Grande successo a Campobasso per la giornata regionale del ringraziamento. Andiamo adesso avanti con le notizie della Gazzetta del Molise. La prima pagina della Gazzetta del Molise è titolata Il viso del Molise, quello vero, professionalità e solidarietà in Rita Fossa Ceca di Trivento. L'Oscar del giorno è stato assegnato a Vincenzo Cotugno, invece il tapiro a Marco Meo. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2 vediamo difficile lo sviluppo, cresce la povertà. Il Governo nazionale, intesa con il sistema delle regioni e delle autonomie locali, si è impegnato ad adottare il Piano nazionale di contrasto alla povertà e ha previsto di mettere a sistema il sostegno per l'inclusione attiva. Stato e Regioni si sono alleati nel Comune obiettivo di arginare la povertà su base legislativa, armonizzando le politiche di inclusione sociale attiva nella strategia europea 2014-2020. E De Matteis, forse Italia si può ragionare dopo la conferenza alla venuta in Molise del commissario Nunzia De Girolamo. Nel taglio basso garanzia giovani il punto in commissione per il consigliere regionale Salvatore Micone è il momento di affrontare la questione. A pagina 3 l'essere umano al suo meglio, finalmente il latte per il villaggio, poi la rapina e la morte di una donna che dovrebbe insegnare a tutti noi ad essere migliori. Mercoledì scorso Rita Fossaceca sul suo diario si diceva felice per l'acquisto di una mucca e poi ai precari della sanità un pacco vuoto per la Will gravi disattenzioni da parte di Regione e Asrem. Medici e infermieri andranno tutti a casa con grandi rischi per le attività sanitarie a danno dei cittadini. E andiamo adesso avanti con le notizie di tutto Molise. In risalto possiamo leggere genitori in carcere, il titolo del protocollo d'intesa tra la Regione e Molise e l'amministrazione penitenziaria. E poi l'ente di governo EGAM e l'azienda speciale Molise Acque saranno una sola entità ad annunciarlo il governatore Frattura. Ed ancora dolore ed incredulità per la morte della dottoressa Rita Fossaceca, volontaria in Kenya, tantissimi messaggi di cordoglio. Passiamo adesso alle notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto a Termoli il convegno La pesca sostenibile, qualità e sicurezza dei prodotti con il sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Castiglione. E poi l'intervento del presidente del Consiglio regionale Cotugno alla prima edizione del premio Avus per San Giuliano di Puglia. Barbagallo e Boccardo della Will a Parigi si discute del clima ma in Molise ci si distrae. Isernia, pagamento Tari, proroga fino al 16 dicembre. E poi Campobasso giovedì 3 dicembre al Teatro Savoia in scena Laica di Ascanio Celestini. Col diretti Molise, bilancio positivo per la giornata regionale del ringraziamento. Sesto Memorial Don Guglielmo, trionfa la Idro Sport. E dei quotidiani locali passiamo a quelli nazionali. Vediamo insieme la prima pagina della Repubblica. La prima pagina della Repubblica è titolata Terra è l'ultima chance. Obama scuote il vertice di Parigi sul clima. Hollande, il global warming, peggio delle guerre. L'India gela le speranze. Dobbiamo crescere, abbiamo il diritto di bruciare carbone. Proseguiamo il nostro appuntamento con le notizie di Libero. Il risalto dopo il presepe cacciano il vescovo. Scuola rifiuta la visita pastorale nelle classi per non offendere le altre religioni. Siamo multiculturali. Salvini porta Gesù Bambino nell'istituto del preside che non lo voleva e scopre che è fatiscente. Elementare vieta al coro le canzoni sacre, attacco al Natale. E poi Renzi dichiara guerra al sole. Il califo si trasferirà in Libia. Ma la priorità del governo e dell'Unione Europea è il surriscaldamento. Il vertice sul clima produce solo anidride carbonica. E Sodoma e Gomorra in Vaticano dico tutto. Bisignani parla dei corvi dopo le accuse del Monsignor Balda. Continuiamo il nostro appuntamento. Adesso leggiamo insieme le notizie della Gazzetta del Mezzogiorno. In risalto Parigi, clima agitato tra i leader. In Italia il record di morti premature per lo smog. L'amianto, emergenza nazionale. Battaglia non solo sulle emissioni nell'aria. Putin, limite di due grandi per il surriscaldamento. Renzi, patti vincolanti. Nel taglio alto Bari, ora tutti a piedi dinanzi al Redentore. Il primo municipio approva tra le proteste. Finita la sperimentazione, stop definitivo alle auto. È il reddito di dignità. Già in bilancio 5 milioni. Direttore alla cultura ha nominato Aldo Patruno. Il Consiglio anticipa il finanziamento. Nel taglio basso il Papa scherza. In Vaticano manca solo Lucrezia Borgia. Eleggemo Ratzinger per la sua libertà contro la corruzione. Andiamo adesso avanti con le notizie di avvenire. In risalto vie di pace con Dio è il segno del Giubileo. Con l'Islam siamo fratelli con la terra per non suicidarsi. Con la visita in una moschea di Bangui si è concluso il viaggio di Francesco in Africa che ha visto domenica l'apertura della Porta Santa. E l'impegno dei grandi stoppa il riscaldamento. Renzi, noi in prima linea. Ma abbiamo il record Unione Europea di morti. Passiamo adesso alle notizie sportive. Leggiamo insieme le notizie della Gazzetta dello Sport. In risalto scappa Napoli. Rabbia Inter. Gli azzurri vincono 2-1. Sono soli in testa dopo 25 anni. Strepitosa doppietta di Higuain. Grande reazione. Nera azzurra in 10. Gol di Liai che due pali alla fine. Mancio attacca l'arbitro. E con questo è veramente tutto. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Vi lascio al Meteo e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Il Meteo è offerto da Signora, dico a lei. Acconseglie, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per martedì 1 dicembre. Generali condizioni di stabilità e bel tempo prevalente sulle regioni di sud-est. Da segnalare tuttavia correnti umidi occidentali responsabili di una maggiore nuvolosità sulla Basilicata Tirrenica e rilievi molisani, ma senza piogge. Ampi spazi soleggiati invece altrove. Temperature stazionarie nei valori minimi, lieve aumento nei massimi. Ventilazione debole o localmente moderata, con mari generalmente poco mossi. Campobasso minima 8, massima 12 gradi. Isernia minima 5, massima 14 gradi. Termoli minima 11, massima 15 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. A consegni, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Alla famiglia e risparmi di Molise TV. Spendi e risparmi di Molise TV. Parma sottototut. Spendi e risparmi di Molise TV. Qualtica di risparmi di Molise TV.